Siamo qua a Forlì e vedete alle nostre spalle l'ultima realizzazione dell'architetto Andrea Cortesi. È una realizzazione un po' particolare, chiediamo a lui del perché di questa particolarità. La prima particolarità è tipologica, sembra un unico palazzo, in realtà sono otto unità abitative e il cuore però di questa realizzazione è che è completamente il legno strutturale con pannelli coibentanti in fibra di legno esternamente. Inoltre internamente anche le pareti sono in legno coibentate con fibra di canapa. Architetto vedo che nella maggior parte della facciata troviamo l'intonaco ma vedo anche che in alcune parti ci sono comunque rivestimenti in legno e mi puoi dire come sono stati realizzati? Sì, allora il rivestimento, la parte in legno che si vede appunto è solo un rivestimento, diciamo la parte strutturale in realtà è completamente coperta da cappotto. Allora, prima dei rivestimenti in legno è stato messo prima il Pavatherm e poi il manto, lo Stamisol FA. Allora, il rivestimento in legno in realtà è stato fatto molto dopo però l'utilizzazione dello Stamisol FA ha permesso, che è molto resistente ai raggi UVB, ha permesso appunto di essere montata e rimanere esposto sette mesi prima di mettere l'ultimo rivestimento con le doghe in legno, che è stata l'ultima cosa che è stata realizzata. Che però rimane solo un rivestimento che sia un discorso estetico ma anche un modo di dichiarare che il legno, che quello che vediamo appunto è un rivestimento però è anche l'anima, il cuore di questo edificio. Ringraziamo il costruttore Graziano Corradin e il progettista Andrea Cortesi. Grazie davvero. Grazie a voi.